dal vangelo secondo matteo in quel tempo alcuni scrivi e farisei dissero a gesù maestro da te vogliamo vedere un segno ed egli rispose loro una generazione malvagia adultera pretende un segno ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di giona al profeta come infatti giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce così il figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra nel giorno del giudizio quelli di ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno perché essi alla predicazione di giona si convertirono ed ecco qui vi è uno più grande di giona nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà perché la venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di salomone ed ecco qui vi è uno più grande di salomone